Giancarlo Antonioni, oggi entri a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Ti chiedo che emozione c'è nel ricevere un riconoscimento così importante? Beh, è un'emozione importante, un ricordo che sicuramente mi porterò dietro per l'andare della mia vita a livello calcistico. Quindi ringrazio la federazione che ha pensato a me per questo evento. E' sicuramente uno dei premi forse più importanti che ricevo, chiaramente dopo la vittoria del Mondiale 82. Quindi mi fa piacere essere nell'Hall of Fame della federazione e ricordarsi un po' delle nostre gesta che abbiamo fatto soprattutto con le nazionali. Io ho partecipato a due mondiali, 78-82, quindi una vittoria a un quarto posto e credo che sia stato anche giusto essere in questa Hall of Fame. Vittoria del Mondiale 82 in Spagna. Ritornando a quella giornata fantastica al Bernabeu a Madrid, qual è il primo momento a cui ripensi se vai con la memoria a quella finale? La gioia innanzitutto delle persone, degli italiani che erano lì presenti, presenti alla partita e anche il dopo partita. Addirittura uno sdraiato davanti al pullman quando siamo usciti dallo stadio Bernabeu. E quello è sicuramente per farci fermare, chiaramente farci scendere perché poi a quel punto credo l'autista si sia fermato e noi siamo dovuti rimanere lì un po' di tempo. E poi, ricordo nostro personale, credo che un giocatore quando inizia la sua carriera calcistica il primo pensiero a cui va incontro è il fatto di poter vincere un mondiale. Credo che sia l'espressione maggiore per un calciatore. Era un calcio molto diverso da quello di oggi. C'è qualche valore di quel calcio che si è magari perso e che le piacerebbe rivedere nel calcio moderno? Vorrei rivedere l'affiatamento tra i ragazzi, tra i giocatori. Cosa che oggi forse è un po' più inusuale perché con il smartphone e tutte queste cose credo che sia perso un po' quel rapporto umano che poteva esserci ai tempi nostri. La famosa partita a carte tra di noi durante un ritiro, la partita a biliardo durante il ritiro che ti cementa e ti fa partecipare più attivamente all'esterno, non in campo perché poi in campo chiaramente ognuno cerca di dare il proprio contributo. Però riesci a cementarti e a creare quelle amicizie che poi anche in campo possono garantire un impegno e un lavoro maggiore. Ecco, forse comincia a mancare proprio questo rapporto tra i giocatori. Grazie e complimenti per l'ingresso nell'Hall of Fame. Grazie, un ringraziamento alla federazione che ha pensato a questo premio e un grazie ai direttori che mi hanno scelto.